Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Oggi vi portiamo un aggiornamento sorprendente su un caso che ha scosso l'Italia, la scomparsa di Liliana Resinovic. Immaginate una tranquilla mattina di dicembre che si trasforma in un incubo. Era il 14 dicembre di tre anni fa e nella casa di Liliana Resinovic c'era un estraneo. Ma chi era? Questa domanda è cruciale per la famiglia di Liliana, convinta che molte risposte si celino nella memoria del suo telefono e in quello del marito, Sebastiano. Quest'ultimo nega fermamente di aver usato i cellulari della moglie, ma qualcuno, in quelle ore in cui nessuno doveva essere in casa, avrebbe rifiutato una chiamata da un certo Claudio. Questo nuovo mistero emerge dall'analisi della copia forense del dispositivo, affidata a un consulente informatico incaricato da Sergio Resinovic, fratello di Liliana. L'esperto ha scoperto una chiamata respinta alle 10.56 di quel giorno. I coniugi erano già fuori casa da tempo, ma un altro dettaglio inquietante si aggiunge, la luce trovata accesa in corridoio, una dimenticanza improbabile per una persona meticolosa come Liliana. Questa vicenda è al centro della nuova puntata di quarto grado, con un confronto tra le versioni dei due uomini nella vita di Liliana, il marito Sebastiano e il sedicente amante Claudio Sterpin, che sostiene che Liliana sia morta perché voleva lasciarlo. Nel frattempo, Sebastiano Vicentin continua a lottare per restituire dignità al suo matrimonio, contestando le affermazioni di Claudio. Interpellato da pomeriggio 5 riguardo alla telefonata respinta, Vicentina ha dichiarato, non so chi sia stato. So solo che guardando successivamente le chiamate, erano di un numero sconosciuto. Lei mi diceva spesso che qualcuno la chiamava e ansimava. Alle 10.56 io non ero in casa. Una nuova testimonianza potrebbe cambiare tutto. Non perdete i prossimi aggiornamenti su questo caso avvincente. Restate sintonizzati.